Dov'è andiamo? Avanti Il pelmo ci saluta e già siamo arrivati nel comprensore schistico del civetta pelmo dopo vi spiegherò perché siamo qua Siamo partiti da Badia, 50 minuti di macchina da Badia fino a Pecol, subito dopo Selva di Cadore e da qua possiamo raggiungere tutto questo bellissimo comprensorio E' un comprensorio che si fa anche durante il giro della grande guerra però si passa solo proprio alla veloce perché bisogna prendere le navette per continuare Oggi ci dedichiamo e ce lo godiamo un po' di più anche perché nel pomeriggio dobbiamo fare una cosina che scoprirete dopo, vero? Non lo svegliamo, cosa facciamo? Siamo per arrivare in cima al Fertazza, se ci guardiamo indietro vediamo il col di lana, il lagazzuoi Vediamo anche il passo Giao da questa parte qua Insomma sono sempre dolomiti Oggi la fanno da padroni il pelmo e il civetta Che spettacolo Che spettacolo Che spettacolo Che spettacolo Che spettacolo Alla in fondo vediamo il gruppo del Sella con la sua, Sella Ronda, tante altre montagne. Come in ogni zona sciistica c'è anche qua una pista bella lunga, la chiamano la Zuita. La gran Zuita, sette chilometri, vediamo. 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 Grazie a tutti. 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 Ormai ci stiamo avvicinando ad Alede. Grazie a tutti. Allede, il lato e la fine pista. Oh, no. Siamo stati un po' nella zona alede, sempre all'ombra. Siamo ritornati sul col dei baldi e c'è un bel sole. Ora andiamo a Zoldo, ok? Zoldo. Che è bello avere ogni tanto degli ski lift. Rilassa un po', comprensorio e c'è un bel comprensorio e c'è un bel comprensorio per sciare. come detto, come si può fare il comprensorio e c'è un bel comprensorio. personalmente, io consiglio, io consiglio solo a chi vuol fare il bus, perché altrimenti vale più la piena venire qui a sciare, prendendo la macchina e goderselo tutto il comprensorio, perché ci sono veramente piste stupende. Ora andiamo verso... Zoldo. 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 Hai un zoldo? No. Il belmo! Il belmo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora siamo a Zoldo Alto. Grazie. Grazie. Abbiamo constatato una cosa. L'ultima perturbazione è venuta da sud, significa che queste zone qua prendono molta più neve che da noi, dove nevica abitualmente sempre, però non tanto. Anche noi guardiamo ogni tanto la cartina. Siamo partiti da Pescul, siamo andati sul Monte Fertazza, abbiamo girato qua verso Allegro e su e giù un paio di volte. Adesso siamo andati direttamente verso Zoldo. Siamo al Monte della Grava adesso, adesso ritorneremo indietro e ci dirigiamo a Palafavera, che è il nostro vero obiettivo di giornata. Siamo nel punto più a sud di oggi. Però panoramico è molto molto bello. Siamo nel punto più a sudore. Siamo nel punto più a sudore. Siamo nel punto più a sudore. Non lo facciamo un po' tutti. Quindi l'occasione per sciare qua, la zona della civetta, era per venire a fare un po' di cibo. Siamo nel punto più a sudore. Siamo nel punto più a sudore. di questi cinque chilometri tirati a tuono con queste casacche enormi per loro. Ecco, finito il biathlon, andiamo verso Pecol per ritornare a casa. Ancora qualche ora di sciata. bello, 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 bello. bello, 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 bello. il sole si sta passando lentamente il sole si sta passando e qua giù abbiamo il lago di Allege proprio giù in fondo valle il sole si sta passando 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 quanti pezzi ancora ne abbiamo? zero il sole si sta passando il sole si sta passando il sole si sta passando il sole si sta passando